Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Il panorama degli scacchi a livello mondiale sta cambiando, stiamo vivendo una nuova era, il tutto grazie anche a un ragazzo di 16 anni che sta buttando giù tutti quelli che sono i migliori scacchisti al mondo. È riuscito a battere Caruana, uno dei giocatori più preparati in assoluto, sta a 8 su 8 alle Olimpiadi, un risultato veramente clamoroso, sta scalando la classifica mondiale alla velocità della luce, si trova ventesimo al mondo con un punteggio di 2729. Il futuro degli scacchi è già qui, si chiama Gukesh. Ora andiamo a vedere la sua magnifica prestazione contro Caruana. Prima di iniziare ricordo a tutti di iscriversi al canale, di mettere mi piace a questo video, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui, Gukesh ha 16 anni e già una leggenda, la sua prestazione è veramente straordinaria, alcuni stentano addirittura a crederci e lo accusano di cheating, ma ragazzi ci sono dei controlli veramente molto severi alle Olimpiadi, non credo che riuscirebbe a barare, anzi questo non bara, questo gioca solo grazie alle sue capacità. Contro Caruana aveva i pezzi neri, Caruana gioca E4, Gukesh gioca la sua solita difesa siciliana, segue cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, Caruana opta per la variante rossolimo della siciliana. Gukesh gioca pedone G6 che è attualmente la mossa più giocata, segue Arrocco, alfiere G7 da parte di Gukesh e Caruana decide di doppiare i pedoni. In questo caso Gukesh ha la possibilità di catturare con il pedone D o con il pedone B, vanno bene entrambe, decide di catturare con il pedone B. Queste posizioni sono ben conosciute da quando Karsen ha preparato il suo repertorio sulla Sveshnikov contro appunto Caruana per il match per il titolo mondiale, quindi c'è tanto materiale di studio e i due giocatori sono sicuro che arrivano preparatissimi. Qui Caruana gioca a torre 1, l'idea è di supportare la spinta in E5, Gukesh gioca donna C7. Qui per la prima volta dopo 6 mosse Gukesh esce un po' dalle linee principali, la cosa curiosa è che questa mossa è quella consigliata dal motore, ma è solo la quinta mossa più giocata dai grandi maestri, quindi non è considerata una variante principale ma una variante minore. Caruana prosegue con H3, segue pedone D6 e Caruana gioca E5. Ecco questa era l'idea di torre 1, giocare E5. Qual è l'idea di E5? L'idea di E5 è che dopo la cattura che avviene in partita è quella di indebolire i pedoni doppiati sul lato di donna, quindi sulla colonna C. Se ora dovesse cadere il pedone in E5, qui Caruana avrebbe un grosso vantaggio posizionale. Gukesh attualmente ha un pedone in più, ma non è facile mantenerlo, vediamo cosa succede. Caruana gioca a pedone D3 e Gukesh decide subito di ridare indietro un pedone giocando C4. L'idea di C4 è quella di far doppiare i pedoni a Caruana, dare indietro il pedone, far doppiare i pedoni a Caruana e ricordiamoci che Gukesh qui ha la coppia degli alfieri. Caruana non accetta, ignora completamente il pedone in C4, gioca cavallo C3, continua lo sviluppo, Gukesh cattura in D3, segue pedone per D3 e a questo punto Gukesh gioca una mossa molto strana, ovvero cavallo H6. Non so se qui fosse in preparazione, presumo di sì, qualcosa sapeva di questa posizione. È una mossa molto strana questa perché di fatto Gukesh sta ridando indietro il pedone di vantaggio. Questo cavallo è in presa dall'alfiere, quindi Caruana decide di catturare in E5 con il cavallo. Alfiere per E5 non è buona perché segue alfiere per H6, il bianco controlla le case scure e avrebbe vantaggio. Quindi Gukesh ha semplicemente deciso di dare indietro il pedone in una posizione dove mantiene la coppia degli alfieri e il motore preferisce leggermente il bianco, comunque è tutta da giocare. Qui Caruana risponde con alfiere F4, attacca la donna a raggi X. La donna si sposta in B7 mettendo pressione sul pedone in B2. segue cavallo A4, difende B2, minaccia anche mosse come cavallo C5 e qui Gukesh decide di giocare pedone F6. I pezzi di Caruana effettivamente erano molto attivi in questa posizione, quindi Gukesh decide di cacciarli. F6 per far indietreggiare il cavallo. Il cavallo si sposta in F3 e Gukesh decide di mettere il real sicuro. Raggiungiamo quindi questa posizione che è molto complicata perché appunto Gukesh alla coppia degli alfieri sappiamo quanto possono essere pericolosi in posizioni aperte, ma qui il motore preferisce il bianco, quindi il bianco ha un vantaggio posizionale. Chiaramente uno deve saperlo anche sfruttare. Vediamo cosa è successo. Caruana decide di giocare D4, questa è una grande mossa. Caruana prepara anche la mossa cavallo C5, Gukesh qui gioca G5, è una mossa strana, attacca l'alfiere. Caruana ha la possibilità di giocare cavallo C5 mantenendo un ottimo vantaggio. Qui siamo solo alla sedicesima mossa. Caruana decide di giocare alfiere H2, questa è un'imprecisione, mantiene un po' di vantaggio ma non è la mossa migliore. Infatti ad esempio cavallo C5 qui avrebbe dato a Caruana delle grosse possibilità secondo me in questa posizione. La posizione non è per niente semplice, ma secondo me il nero qui soffre parecchio. Ad esempio vediamo cosa ci potrebbe venire in mente. Donna per B2 è una mossa completamente sbagliata. Qui il bianco ha una mossa veramente micidiale che è alfiere C7. Caruana qui avrebbe avuto partita completamente vinta, più 4 di vantaggio per il motore, ma perché? Ragioniamoci un po'. In pratica qui il nero è in Zuzwang, non ha mosse, ha tutti i pezzi paralizzati. L'alfiere non può andare da nessuna parte, l'attore non può andare da nessuna parte. L'attore qui non ne parliamo, non ha praticamente mosse. Quindi il bianco qui ha un grosso vantaggio posizionale. Peccato che Caruana non abbia giocato la mossa cavallo C5, ma ha preferito in questa posizione giocare alfiere H2. Qui Gugash prosegue con H5, la sua idea è cercare di effettuare un attacco sul lato di Re con G4. Segue torre E4, mossa molto interessante. Torre E4 ha varie idee in mente in realtà. Quella di impedire la spinta in G4, difende il pedone in D4, ma vuole anche attaccare il pedone in E7 tramite torre E1. Gugash risponde con donna D7, segue donna C2 da parte di Caruana, mette pressione sul pedone in C6, prepara la mossa torre E1. Gugash qui a questo punto difende il pedone in E7 giocando torre F7, mossa fantastica, è consigliata anche dal motore. Serve appunto a difendere la casa E7. Segue comunque torre E1 da parte di Caruana e Gugash gioca alfiere F8. Qui sta giocando benissimo. L'idea è quella di difendere il pedone con l'alfiere e di giocare torre G7, in modo da supportare la spinta in G4 e iniziare ad attaccare il Re. Caruana prosegue con donna E2, mettendo ancora pressione su E7, ma anche sul pedone in H5 a raggi X. Segue donna D5 da parte di Gugash e cavallo A4. Cavallo A4 difende il pedone in A2, attacca la donna, la donna si sposta in D7 e poi Caruana gioca a donna C4. Donna C4 è una mossa molto particolare, inchioda la torre, mette pressione sul pedone in C6, mantiene un po' di attività sul lato di donna. Non piace molto al motore, qui Caruana perde quel piccolo vantaggio che aveva in apertura, ma la posizione rimane completamente pari e quindi del tutto giocabile. Qui Gugash gioca a donna B7, attaccando il pedone in B2, Caruana spinge il pedone giocando B4, segue pedone E6, gran bella mossa pedone E6, collega torre e donna. Torre B1 da parte di Caruana, supporta il pedone e intende giocare B5. Gugash sposta la donna perché era attaccata a raggi X, quindi donna D7. Segue torre 1, donna B7, qui Gugash sembra voler ripetere la posizione, torre B1, donna D7, ma a questo punto Caruana decide di voler continuare a giocare. Qui Gugash aveva 10 minuti di tempo, Caruana 15 minuti, siamo alla mossa 27, i due devono giocare 13 mosse per poi avere l'incremento di tempo. Caruana quindi stava giocando per vincere e decide di continuare giocando A3. Di fatto A3 però è un'imprecisione, Gugash qui per la prima volta riesce a passare in vantaggio. Gioca pedone A5, mossa molto interessante, cerca un po' di attività sul lato di donna. Cavallo A4, gran bella mossa, il bianco vuole giocare cavallo C5 per attaccare la donna, o comunque cavallo B6 per dare questo doppio con il cavallo. Gugash deve quindi spostare la donna, gioca donna D8 controllando la casa B6, segue pedone per A5, torre per A5 e cavallo C5. A questo punto però cavallo C5 non sembra essere gran che come mossa, questo è il primo errore serio di Caruana. Caruana pensava di mettere pressione in E6 in qualche modo con questo cavallo, il problema è che perde un pedone, sta regalando un pedone e il nero non sembra avere nessun problema in questa posizione, il punto è questo. Quindi non si capisce bene la decisione di giocare cavallo C5 da parte di Caruana, che vi dico qui aveva 5 minuti e 30 secondi. Sappiamo bene che Caruana quando ha poco tempo inizia a commettere errori. Gugash continua con donna D5 perché Caruana metteva pressione su E6, Caruana decide di non cambiare le donne giocando donna E2, ma appunto qui salta un pedone, salta il pedone in A3. E ora è molto facile per Gugash giocare in questa posizione, non sta rischiando nulla, il re è difeso molto bene e vuole cercare di attivare i pezzi. Caruana risponde con torre D1 perché questo pedone è sotto attacco, segue torre A7, Gugash attiva le torri, pedone G4, un altro errore grave da parte di Caruana ma qui era disperato secondo me, aveva solo 37 secondi, giocava con l'incremento e cercava di incasinare un po' la posizione per cercare di effettuare un attacco che poi di fatto non c'è stato, pedone G4, quindi Gugash cattura, segue pedone per G4, cavallo H6. L'idea di cavallo H6 è quella di attaccare il pedone G4, giocare pedone E5 per attaccare ancora con l'alfiere il pedone G4, Caruana gioca alfiere G3, segue appunto E5, gran bella mossa, Gugash vuole catturare con l'alfiere in G4 e Caruana qui decide di sacrificare un pezzo. Sì, questa è la mossa migliore ma è anche disperata perché la partita è completamente vinta per il nero. Segue pedone per cavallo da parte di Gugash, torre per pedone e alfiere per G4 appunto. Mossa intermedia, Caruana attacca la donna di Gugash, Gugash risponde attaccando la donna di Caruana ma non solo perché attacca anche la torre in D1 con l'alfiere. Quindi Caruana deve salvare la donna, gioca a donna D2, segue donna F3, guadagnando un tempo sulla torre in E1, lasciando perdere completamente il pedone in G5, anche perché su un'eventuale cattura del pedone segue appunto torre G7. Infatti Caruana va proprio per questa linea, torre per G5, torre G7, il nero è al sicuro e mentre Caruana qui sta rischiando di prendersi scacco matto. Segue torre E1, Caruana disperatamente cerca di effettuare un attacco, alfiere H3 appunto con minaccia di matto in 1, alfiere D6, la torre para lo scacco matto, alfiere per D6, torre per G7, re per G7, Caruana decide di entrare di donna per cercare di attaccare, per cercare un eventuale perpetuo, qui non c'è assolutamente niente da fare, qui c'è scacco matto in 11 mosse per il nero, anche perché come vedete il bianco ha anche diversi pezzi in meno, non ha proprio gioco, re H7 da parte di Gugesh, cavallo E4, donna per cavallo e la partita qui è da abbandono. Non può seguire torre per donna, altrimenti torre A1, scacco matto, il lommatto del corridoio, Caruana quindi commette quest'ultimo errore e poi decide di abbandonare. Cosa dire, prestazione veramente incredibile da parte di Gugesh, che a soli 16 anni sta scrivendo la storia degli scacchi, in questo momento sta giocando contro Mamediarov, chissà come andrà a finire, se dovesse fare 9 su 9 non oso immaginare cosa potrebbe succedere a livello mondiale degli scacchi. Vedremo, grazie a tutti per la visione di questo video, ricordo di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, ciao e alla prossima! Grazie a tutti!